Signor coniglio! Oh, signor coniglio! Oddio, eppure son certa che è passato di qui, che si possa esser nascosto. Non qui. Chissà. Oltre ciò che vedo! Esatto, mio caro. No, credo che debba aver... Ma... ma che strane piccole creature. Pinco-Panco e Panko-Pinco. Se ci credi i murazzini dovresti pagare per vederli. E se ci credi persone viventi dovresti salutarci. Questa è logica! Beh, piacere di avervi conosciuto. Addio! Tu cominci alla rovescia. E già, la prima cosa da fare facendo conoscenza è... Sregli da man, piacere, gere, gere. Questo sono io, piacere. E poi presentazione. Questa è l'educazione. Davvero? Ebbene, mi chiama lì, ce sto seguendo un coniglio bianco, è così? Oh, andartene non puoi. No, sei in visita da noi. Oh, mi spiace, ma... Vuoi giocare al nasconderello? Oh, agnello, che bell'agnello, che bell'agnello. Vuoi essere un incontro di posto? Tu dici? È vestito da femmina! E basta! Non è questo il momento di mettersi a giocare. Siete molto gentili, ma devo andarmene. Perché? Perché sto seguendo un coniglio bianco. Perché? Ecco, son curiosa di sapere dove è diretto. Oh, è curiosa. Anche le ostiche erano curiose, ti ricordi? Già, e tu ti ricordi che fine hanno fatto? Poverette! Perché? Che fine hanno fatto le ostiche? Oh, non credo che ti interessi. Ma sì, invece! Oh no, tu hai troppa, troppissima furia. Forse potrei concedervi qualche minuto. Potresti? Bene!